Ciao a tutti. Benvenuti sul nostro canale. Sono. E oggi ci immergeremo nel mondo delle emozioni e delle rivelazioni. Esplorando il documentario. Unica. Di Ilari Blasi. Il 24 novembre è stata la data di uscita di questo documentario di un'ora e venti che ha svelato la verità di Ilari Blasi sull'addio a Francesco Totti. Nel corso del documentario. Ilari ha condiviso dettagli intimi del tradimento di Totti con Noemi Bocchi. Rivelando una pagina dolorosa della sua storia d'amore. Una delle figure chiave nel documentario è Giorgia. La moglie di Angelo Marrozzini. Cugino di Francesco Totti. Giorgia ha aperto il suo cuore. Ammettendo che i rapporti tra loro non sono più quelli di un tempo. Angelo. Legato a Ilari dopo la rottura con Totti. Ha mantenuto un legame forte con la showgirl. Ilari e Giorgia hanno condiviso insieme la prima prova della relazione di Totti con Noemi Bocchi. Ma l'aspetto più toccante è stato l'intervento di Isabel. La figlia più piccola di Ilari e Francesco Totti. Che ha portato. L'illuminazione. Che ha aperto gli occhi di Ilari sulla situazione. Se volete scoprire tutti i dettagli e le emozioni legate a questo intenso documentario. Continuate a seguirci. E ora. Se ancora non lo avete fatto. Iscrivetevi al nostro canale per non perdere neanche un aggiornamento sulle storie più coinvolgenti del mondo dello spettacolo. Siate parte della nostra community. Grazie per essere qui su. E ci vediamo nel prossimo video. Iscrivetevi ora e condividete questo video con chiunque sia interessato alle storie di Ilari Blasi e Francesco Totti.